Il display è una volta l'S2 l'ho cambiato, ho andato bene l'explay, ma il vetro è più difficile ancora il display è cambiato. E chi se suona un po' con la musica? Eh? Oppa, manda a rispondere alcune! Manda le camerina, Cristian! E che figlio? No, basta, non vedi già così! Si, non manda le camerina! No, lo stanno! Abbiamo bene però! No, cazzo, l'explay è 140 euro, secondo me sta facendo 100 euro. Si è preso l'80 euro? Si, no, i picchini abbassano questo. Come chi ci ci dì? Ah, la prima è la presa. Ah, non. Ma anche per le sfompe non ho il problema! Si, dai! Vabbè dai, Cristian! Vabbè, come funziona mai funziona bene, tu lo stai minghiando, non c'è la mia. Vabbè dai! Dai, faccio! Aspetta! Ah! Prenza e tappa! Sarca lì! Sarca lì! Ma neanche lì! Ma neanche lì! Ma tu ci fai a farlo! Ma non c'è il sonno tutta l'altro! Ma non c'è la mia zonca! Ma neanche lì! Ma non c'è il sonno! Ma non c'è il sonno! Ma non c'è il sonno! dai compare, compare dove? compare, annacati compare, spiegate all'11.4 non mi mi scherzo un po' fatti a poco metti i macchini, io lo beratti, mi assenta mi ha telefonato a 6 giocchi, mi scherzo compa, alle 10 c'è il battito no, alle 10, no, andavo a 30 secondi per il telefonato compa, mi sono appena imparato abbastanza la sala, ci sei buono non è buono, tanto vediamo, andateci distante ci credo a me leggi venire ahahahah 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 dai dai oh 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 Stai un'altro di dire Che cosa? Just like a manger Still makes me cry Stai un'altro di dire Stai un'altro di dire Green food I wish I was special Grazie. 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 di prima e o Ma che fai? Macchià la tutta patatina Grazie